Sinergine 2021 Sinergine 2021 Sinergine 2021 Sinergine 2021 Sinergine 2021 Acquisire nuove immobili è fondamentale, considera che questo tempo coincide circa con il 7 giorni al mese di attività lavorativa Ricordiamolo che il tempo è un'energia non rinnovabile Assolutamente sì, ed è perso, una volta che la perdi è perso Bene, allora per chiudere, appuntamento all'anno prossimo, Sinergine 2022 ci sarai? Assolutamente sì, neanche da chiedere Fantastico Grazie 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 Grazie